ciao a tutti ragazzi siamo qui al campionato italiano amshi a gubbio automodellismo 5 colli questa è la mia macchinina una shepard v8.2 è l'ultima nata di casa shepard motorizzata ielasi tuned col gp9 su base os per quanto mi riguarda le qualifiche non sono andate nel migliore dei modi perché le condizioni di pista bagnata sono sempre un po critiche tuttavia nelle condizioni di asciutto delle prove libere eravamo comunque molto competitivi in quanto avevamo il quinto tempo assoluto per quanto riguarda il modello in questa situazione di pista ovviamente non adesso ma nei giorni precedenti di alta gommatura abbiamo apportato alcune modifiche che sono ovviamente il fare urti anteriore forato per avere un po meno grip all'anteriore per evitare il capottamento e delle delle molle un po più dure all'anteriore per quanto riguarda invece il motore nulla da dire i motori vanno oggettivamente molto bene abbiamo toccato i 128.3 nei giorni scorsi al che abbiamo deciso di accorciare anche un po i rapporti in virtù del fatto di girare con gomme un po più alte nella finale questo è tutto per quanto riguarda la macchina caratteristica principale che mi piace è la tanta attrazione del modello avendo questo treno molto stretto e soprattutto un freno molto stabile si permette di staccare veramente all'ultimo e avere sempre molta attrazione grazie grazie a tutti grazie a tutti